L'estate che sta per concludersi è stato un momento per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole della provincia di Pescara e sono state più di 40 le opere di adeguamento sismico per un importo complessivo di 51 milioni di euro. Il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, si ritiene soddisfatto degli interventi svolti. Interventi che hanno permesso il rientro in classe a numerosi studenti senza problemi e con interventi programmati già nei mesi scorsi. Solo in due scuole, come l'alberghiero De Cecco e il liceo Marconi, i cantieri resteranno aperti per adeguamento sismico senza interferire però con lo svolgimento della programmazione didattica. Infatti alcuni classi del liceo Marconi hanno trovato luogo all'istituto Ravasco in via Lebovio mentre alcune sezioni della De Cecco in via Tirino e all'istituto Ravasco in via Italica per via della realizzazione di nuove strutture. Al liceo Marconi in via Einaudi invece è la realizzazione della nuova struttura che riguarda proprio il belisario Misticoni. Novità anche per la sede dello Spaventa di Città Sant'Angelo che a partire dal 18 settembre tornerà a riempirsi di studenti e insegnanti mentre appenne nell'entroterra della provincia di Pescara per il palazzo De Sterlic sono stati presi dei locali in affitto pur di garantire lo svolgimento delle lezioni ai ragazzi delle scuole superiori.